Ciao, ciao bel pistolino. Perché non ti prendi queste due fate? Vuoi che veniamo anche noi? Siamo bravi, né? Ah, non gira stasera. Bene, andò, dici me la presa. E va per noi. Uh! Ma come è andata? Ma come è andata stasera? Male, come al solito. Vieni. Uh, cellello, ciao. Ciao a tutte. Ciao, ciao. Finalmente. Pure il tempo ci si mette adesso. Tieni. E se non veniva a piovere, potevano essere magari di più. Ah, comunque stasera c'è una bella novità. Pensa, un signore che veniva dall'aeroporto, si è fermato. Sai, gli è nata subito una simpatia. Indovina chi è. Non so. E indovina, dai, indovina. Ma non lo so, il papa? No. È l'amminisciatore della Spanta, il copertone che incanta. Io ci ho chiesto di prenderti a lavorare con loro, perché in un certo senso sei del ramo. E scusa, prima di metterci insieme, rubavi le gomme all'automobile. Ma come ti permette, ti è disgraziata? Ma che fuori che mi fai fare? La mia donna che mi cerca lavoro. Ma che sono io per te? Il giorno che vorrò un lavoro me lo troverò da solo. Ho una dignità io, cosa credi? È vero, hai ragione. Sono stata indelicata. E io, sai, ti volevo aiutare. Con le relazioni che ho, pensavo di darti una mano. Non so. Va bene, va bene. Per questa volta ti perdono. Però che non succeda più. Tutte possono sbagliare. E adesso a casa. Ciao, Colombi.